Il primo appuntamento è sempre emozionante. Davide ha scelto un regalo speciale per Carolina. L'uovo al cioccolato bianco salato, fatti buoni. La delicatezza del cioccolato bianco, unita al gusto salato di mandorle e pistacchi italiani. Un abbinamento unico. Carolina è impaziente. Lei ha pensato a qualcosa di goloso per Davide. L'uovo nocciolato gianduia, fatti buoni. Nocciole intere italiane che si tuffano in un irresistibile cioccolato gianduia. Ogni prodotto fatti buoni evoca sapori autentici, in grado di farci emozionare come da bambini. Fatti ingolosire dalle eccellenze italiane anche a Pasqua. Scoprile tutte in esclusiva nei punti vendita Oasi e Tigre. E in ogni uovo fatti buoni, una sorpresa garantita per la tua prossima spesa.